Tragedia Ucraina, città sotto assedio, bombardamenti su obiettivi civili, oggi nuovi colloqui alle 13 a Brest per la tregua. Il ministro degli esteri, Russo Lavrov, apre al dialogo. Oltre un milione i profughi in cerca di scampo alle frontiere, soprattutto donne e bambini, chiesti a gran voce corridoi umanitari. Scavi archeologici sul monte Tabor, nuove scoperte alla ricerca di tasselli della storia all'epoca di Gesù. Buongiorno, bentornati al TG2000. In apertura la guerra in Ucraina. Mosca conquista Kherson al sud, cerchiata Mariupol, bombe sui civili. Flebile la speranza sui negoziati che si apriranno alle 13 tra Kiev e Mosca. Intanto il ministro degli esteri, Russo, dice una soluzione e si troverà. Siamo pronti al dialogo. Caterina Dall'Olio. La conferma ufficiale dell'inizio del secondo giro di negoziati tra Russia e Ucraina arriva da queste immagini. La colonna di mezzi della delegazione russa che passa alle 9 ore italiana di questa mattina in una strada abbastanza anonima da non permettere la precisa localizzazione. Si sa che ci troviamo tra Bielorussia e Polonia e che si discuterà di un'eventuale cessate il fuoco. Ma gli sviluppi sul terreno non lasciano molto spazio all'ottimismo. Questa notte le forze russe hanno conquistato Kherson nel sud dell'Ucraina, il primo grosso centro abitato. La città ha quasi 300.000 abitanti e si trova in una posizione importante per l'avanzamento delle truppe di Putin. Proseguono poi praticamente ininterrotti i bombardamenti delle principali città ucraine e in particolare si stringe l'assedio attorno a Mariupol, ormai priva di acqua. E intanto il mondo condanna l'azione militare. Gli Stati Uniti stimano che i morti russi nei sette giorni di invasione siano circa 2.000, ma Mosca riconosce per la prima volta 500 caduti tra i suoi militari. L'alto commissario per i rifugiati dell'ONU considera che abbia lasciato l'Ucraina a un milione di persone. La Corte Penale Internazionale invece apre un'indagine sui presunti crimini di guerra commessi dalla Russia. In Ucraina l'Organizzazione delle Nazioni Unite approva con una maggioranza schiacciante la risoluzione contro Mosca per l'invasione chiedendo un ritiro immediato delle truppe e condannando le minacce nucleari del Cremlino. E c'è un nuovo appello del Dipartimento di Stato americano al presidente russo Vladimir Putin e al governo di Mosca a porre fine a questo bagno di sangue immediatamente e a ritirare le truppe dall'Ucraina, riporta il quotidiano Guardian. La Germania è pronta a inviare altri 2.700 missili antiaerei al governo di Kiev che chiede corridoi umanitari immediati almeno per i bambini. E sono ormai un milione i cittadini ucraini in fuga dal conflitto in Italia. Mobilitazione generale. Barbara Masulli. Ne arrivano tanti di pulman con a bordo profughi ucraini a Corzova al confine con la Polonia. Sono immagini di poche ore fa e ci sono soprattutto donne e bambini. Dall'Italia invece partono mezzi carichi di aiuti, cibo e medicine per l'Ucraina. Qui ad esempio siamo a Genova dove è stato allestito un centro raccolta nella chiesa di Santo Stefano. Una signora addirittura ha inviato un intero pulmino pieno di beni. Questo è tutto che ha ordinato. Anche la Caritas contribuisce cercando alloggi per i rifugiati. Nina, ucraina di nascita, è residente nel capoluogo Ligure ormai da anni ma racconta la preoccupazione per i suoi connazionali. Due parenti, mia sorella e mia nipote sotto occupazione già da sabato. Dai, 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 forza, forza che dobbiamo lavorare. Lei aiuta come può ad esempio cucendo bandiere giallo-blu. E alle frontiere dunque premono tante famiglie di profughi. Al confine con la Moldavia si trova il nostro inviato, Vito De Torre. Buongiorno, Vito. Sì, buongiorno. Io mi trovo a Kicinau, nella capitale della Moldavia, nella missione Don Bosco, nella missione dei Salesiani. È stata una notte difficilissima. Noi siamo arrivati ieri notte qui nella missione Don Bosco. Su questo piazzale tutta la notte è stato un continuo via vai di macchine. Di macchine che arrivavano dall'Ucraina, cariche di profughi e di macchine che partivano verso il confine con la Romania, verso l'Unione Europea. Noi ci troviamo a circa un'ora di auto dal confine con l'Ucraina e a circa due ore di auto verso l'Unione Europea. Dicevo, è stata una notte davvero difficile. In Cile abbiamo incontrato tanti profughi, lo documenteremo in dettaglio nelle edizioni serali del TG2000. Pochi istanti fa siamo riusciti ad attivare la connessione che ci consente di realizzare questa diretta. È tutto più complicato. Qui in Moldavia tanti profughi italiani. Sembra assurdo nel 2022 incontrare profughi italiani ma si tratta di persone che lavoravano in Ucraina e hanno lasciato tutto. Abbiamo visto addirittura una bambina di 20 giorni nel trasportino insieme ai suoi genitori in fuga dalla guerra. Sono due persone che sono dirette in questo momento a Roma. Davvero una situazione assurda. Sono arrivati alle quattro le notti un gruppo di profughi che stanno proprio riposando in questi spazi della missione Don Bosco. Qui in Moldavia si respira un'atmosfera di calma relativa. Certo le frasi di Lukashenko del presidente bielorussa pronunciate ieri preoccupano e non poco una delle tappe della missione militare di Putin sarebbe proprio la Moldavia. In questo momento non c'è, non si registra nulla ma certo il traffico aereo in questo momento nel paese Moldavo è chiuso. È tutto per il momento, tutti gli aggiornamenti nell'edizione della sera. A voi. Ed intanto chiusa la storica radio Eco di Mosca. Washington accusa il Cremlino di volere la morte della stampa indipendente. Pierluigi Vito. Il Cremlino spegne l'Eco di Mosca. La storica radio indipendente che negli anni ha ospitato numerosi voci di oppositori di Putin come Alexei Navalny ha annunciato la propria chiusura dopo che le autorità avevano bloccato le trasmissioni dell'emittente per la sua copertura dell'invasione dell'Ucraina. Una decisione presa dalla maggioranza del consiglio di amministrazione, scrive il direttore Alexei Venediktov, ma la redazione non ha intenzione di farsi mettere a tacere e continua a lavorare attraverso i canali social. Come sempre, bersaglio della guerra è la libera informazione che nelle intenzioni dei belligeranti deve soccombere davanti alla propaganda. La censura si è fatta particolarmente stringente in Russia, vietato per la stampa utilizzare le parole guerra, invasione e vittime civili. Alla Duma, il Parlamento di Mosca ha in discussione una proposta di legge che prevede la possibilità del carcere fino a 15 anni per chi pubblica false informazioni sull'esercito. Questo mentre l'UE si appresta a mettere al bando da tutti gli strumenti di diffusione, da TV via cavo al satellite alla rete, i due mezzi di comunicazione russi più noti all'estero, la televisione di Stato Russia Today e il quotidiano online Sputnik. Una guerra mediatica la cui prima vittima, come scriveva Eschilo 2500 anni fa, rimane la verità. I giovani per la pace manifestano contro la guerra. Domani assemblea a Roma, al Teatro Brancaccio e flash mob in Piazza Vittorio con 3.000 studenti delle scuole superiori. Organizzato dalla comunità di Sant'Egidio verrà lanciato un gesto simbolico a cui potranno aderire tutti gli italiani per chiedere l'immediato cessate il fuoco e la fine delle ostilità. E siamo alla pagina politica per Kiev in arrivo fondi dal bilancio europeo. Oggi a Bruxelles il segretario del PD Letta, Augusto Cantelmi. Lavorare per il dialogo e fermare le armi da Bruxelles dove ha ricordato David Sassoli, il segretario del PD Letta chiede a Putin di fermare l'offensiva. Deve parlare la diplomazia, deve fermarsi la guerra. Noi chiediamo immediatamente una tregua e una tregua che consenta alla diplomazia di fare il suo corso. Anche per Salvini si devono fermare le armi e questa mattina ha chiesto all'ambasciatore russo l'immediato cessate il fuoco, leader del Carroccio che poi ha incontrato l'ambasciatore dell'Ucraina a Roma. Nella via libera del Parlamento alla risoluzione sull'Ucraina anche il contributo di Fratelli d'Italia che con la Meloni tuttavia non rinuncia a critiche. Fino all'aggressione russa in Ucraina l'Unione Europea in questa vicenda non aveva giocato alcun ruolo. Per colpire invece gli interessi di Putin dai Verdi arriva la proposta di uno sciopero del gas. Con cui finanzia la guerra in Ucrania. Se vogliamo dare un gesto concreto di solidarietà, dire no alla guerra, riduciamo il consumo di gas nelle nostre abitazioni riducendo di due o tre gradi riscaldamento. Anche in tempi così complicati tuttavia si torna a parlare anche di crisi di governo minacciata dallo stesso esecutivo nel caso non dovesse passare la riforma del catasto. Nel pomeriggio il vuoto, collega e Forza Italia, contrari alla riforma. Ed intanto i prezzi dei carburanti vanno alle stelle. 1,861 euro al litro per la benzina caricata da sé in modalità self e 1,996 euro al litro per il servito. Ma in alcune città si superano già abbondantemente i due euro. Il conflitto russo-ucreino si innesta in una situazione di forti aumenti già da inizio dell'anno. Ed in questo clima il governo rischia di cadere sulla delega fiscale la riforma del catasto. Di fronte allo strappo del centro-destra sulla mappatura degli immobili, l'esecutivo ha dato un ultimatum minacciando la crisi. E parliamo ora di Covid con i dati dei contagi che continuano a scendere. Alcune regioni che chiedono di conseguenza di allentare le misure restrittive. Luigi Ferraiolo. Le regioni chiedono un ulteriore allentamento delle misure di sicurezza contro il Covid e la revisione del Green Pass. Però il consigliere del Ministro della Salute, Walter Ricciardi, avverte che la pandemia non è finita e una serie di regole dovranno restare in vigore fino a giugno, per sicurezza. Frattanto crollano i ricoveri in Italia, facendo registrare un meno 21,6% in una settimana, il calo più netto dell'ultimo mese. Continuano a diminuire anche i posti letto occupati nelle terapie intensive. Lo indicano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, aggiornati al primo marzo. Mentre viene confermata la validità delle mascherine come arma principale contro la pandemia, anche dallo studio di un gruppo di università svedesi, italiane e austriache. Il nuovo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, appena pubblicato, inoltre sottolinea che il 90% dei decessi da Covid è strettamente legato al virus. La variante Omicron, intanto, è meno letale grazie ai vaccini. A partire dal 2021, grazie ai sieri, il numero dei decessi è diminuito e si è arrivati ad avere una mortalità molto bassa, nonostante una contagiosità maggiore della mutazione sudafricana. I nuovi casi sono 36.429, i morti 214. L'aumento più consistente di contagi è in Campania, con 3.350 nuovi episodi. In nove anni sono scomparsi circa 85.000 negozi fisici, di cui quasi 4.500 durante la pandemia. La denuncia è di Confcommercio. Aggiungendo i 10.000 persi nella vendita ambulante, si arriva a circa 100.000 attività scomparse. La riduzione è dovuta soprattutto alla stagnazione dei consumi di tipo strutturale. La rete per la giornata della vita nascente accende i riflettori sul grave problema del calo demografico in Italia. Ieri in una conferenza l'organismo laico ed apartitico ha chiesto l'istituzione della giornata nazionale della vita nascente per il 25 marzo. Ascoltiamo le parole di Eugenia Roccella tra i promotori nell'iniziativa. Sì, noi siamo una rete di 40 associazioni che ha spinto per istituire la giornata della vita nascente a livello nazionale. Ci sono stati sei progetti di legge depositati, tre alla Camera e tre al Senato, molto trasversali di diverse forze politiche. E oggi abbiamo avuto un incontro con la Presidente Casellati che è molto sensibile al tema, ne ha parlato più volte e ha promesso di rappresentare le nostre esigenze in sede di Capigruppo per cercare di spingere. Senza un cambiamento di direzione, noi avremo enormi problemi anche sociali, di solitudine degli anziani, di problemi nei confronti delle pensioni, di servizi e nello stesso tempo senza un cambiamento di rotta il Paese si accartoccia, manca di vitalità perché se non abbiamo bambini, se non abbiamo giovani, non abbiamo futuro, non abbiamo speranza. Andiamo in Terra Santa, riprendono gli scavi archeologici in uno dei siti biblici più importanti della Galilea, la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Il cancello del santuario della trasfigurazione è spalancato, la facciata completamente ripulita. Non è l'unica novità che attende i pellegrini sul monte Tabor dopo due anni di chiusura. Un indizio è il rumore dello scalpello che arriva dalla cripta dove da pochi mesi si è ricominciato a scavare alla ricerca di nuovi tasselli della storia all'epoca di Gesù, di uno dei luoghi biblici più suggestivi di Terra Santa. Sia dalla cultura materiale, da oggetti votivi, piuttosto che la ricerca numismatica e che ovviamente noi luoghi che andiamo ad indagare ci hanno portato un po' a definire meglio il contesto proprio ellenistico romano. La prima fase di ricerca è avvenuta con lo studio dei preziosi materiali rinvenuti nelle precedenti campagne di scavo francescano, con cui si è scritta parte della storia bizantina e crociata del monte Tabor. Con i saggi di scavo e la cripta la speranza di avere qualche informazione in più sull'epoca ellenistico romana. Le foto storiche, prima della costruzione della basilica moderna a opera del Barluzzi, ci mostrano un'enorme area di raccolta del materiale e anche di devozione perché era probabilmente un ambiente cristiano, un ambiente votivo che è stato percorso da secoli. A coordinare la ricerca è una fisica nucleare docente in uno degli istituti scientifici più importanti di Israele. Terminata la campionatura dei materiali sul campo si passerà all'analisi di laboratorio. Per verificarne l'originalità di questi campioni, la composizione, la struttura e possibilmente se ci sono i materiali adatti tipo carbone o semi bruciati o ossa nelle varie tombe, riusciamo a datare questi campioni in modo tale da dare un'età alle strutture che abbiamo studiato. È tutto, vi lascio al meteo e all'ora solare che ospita oggi l'attore Neri Marco Re. L'appuntamento con il TG2000 torna alle 14.55. Buona giornata.